Colliamo il senatore Riccardo Milana, candidato a Lazio del Senato con Monti per l'Italia. Senatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E allora, come standa? Io non voglio fare la spia, nel senso abbiamo parlato con il senatore Cursi del Popolo delle Libertà qualche istante fa, ma in realtà poi sono accuse che reciprocamente vengono scambiate anche e lette sui giornali. Sono accuse pubbliche, anche Cursi ha detto non serve agli italiani votare per partitini, ho chiesto i nomi, per partitini, come buttare il voto. E ho detto può specificare chi si riferisce, anche lui ha confermato proprio al movimento che vede Monti come leader. Insomma, voglio dire, io capisco un po' tutto, definire questo un partitino fuori da schemi, da sondaggi che non si possono dire, è ridicolo. Definire ridicolo, la verità che c'è da parte di esponenti del PDL è la rabbia per quello che hanno combinato. È andato male il governo del paese, è andato male quello della regione, va malissimo quello del comune, travolti tutti i scandali e adesso sono alla ricerca del voto perduto. Credo che potrebbero raccontarla un po' meglio. Il voto non è mai inutile. Quando un cittadino esprime la propria tendenza, la esprime per determinate ragioni, che sono tutte valide, qualunque sia la tendenza che esprime il cittadino. Definire il voto utile e inutile è un po' una grande idiozia. Per quanto riguarda la scelta civica di Monti, c'è la possibilità di arrivare all'alleanza con il PD e a quel punto la percentuale sarebbe... come si è ammessi? Ad oggi perché? Voglio dire, scusate, intanto qui c'è qualcuno che pensa che le elezioni si dovrebbero vincere perché gli avversari non si presentano, non in relazione alle proposte, alle scelte che si fanno ed è veramente una cosa anche ridicola. Questo lo sta facendo anche Bersani, no? Cioè sembra che quasi nella democrazia se uno si presenta alle elezioni fa un dispetto a qualcuno. Poi le alleanze le vedremo, vedremo quali sono i risultati. Nel senso che, per capirci, noi abbiamo fatto un movimento, una serie di scelte e ci proponiamo agli elettori. Stessa cosa fanno gli altri partiti, che tra l'altro voglio ricordare non hanno voluto cambiare la legge elettorale. Noi eravamo gli unici disponibili, gli unici che ci hanno trovato davvero. Se gli elettori bocceranno le proposte in campo, nel senso che a nessuno daranno la maggioranza assoluta, non parlo dei voti, parlo addirittura dei seggi, poi si dovrà rimettere intorno al tavolino e ripartire dai programmi. Non c'è via d'uscita. Questa è la regola principale della democrazia. Ci sono dei cittadini che votano, ci sono delle proposte in campo. Se non dicevano la maggioranza, non è che possono pensare che qualcuno deve abbandonare l'aula per farli vincere. Si ripartiranno i programmi, se saranno compatibili, si faranno le alleanze. Altrimenti si torna al voto. Questa è la regola della democrazia. Certo, se avessero fatto la legge elettorale, torneremmo al voto in maniera più seria. Infatti è quello che non si capisce, anche perché poi per quanto riguarda le varie alleanze, saperle prima, questo non vale solamente per i giochi che… No, però voglio dire, non è un mistero che chi ha costruito le alleanze le ha costruite con l'esperanza di sgraffinare un po' di seggi, grazie al sistema del Porcello. Non l'ho chiamato io così, non l'ho chiamato io così. L'ha chiamato chi ce l'ha fatto. Ed è sostanzialmente un modo un po' imbrogliato. Non c'è da nessuna parte del mondo il fatto che chi prende un terzo dei voti si prende i due terzi dei seggi. Quindi poi se questo non è addirittura sufficiente per rigovernare, perché bisognerà fare altre scelte. Quindi questo si deciderà in base al risultato elettorale. Io le chiedo, allora c'è dall'altra parte la campagna proprio del Popolo delle Libertà che punta tantissimo su questo fatto di restituire l'Imu del 2012, sul fatto di abolirlo poi in via definitiva, sul fatto per esempio di abolire le transazioni in contanti superiori ai 1000 euro che attualmente sono impossibili invece appunto di abolire questo provvedimento. Però concentriamoci su Imu e sulle tasse. Cioè io credo che è interesse di qualsiasi politico far sì che la popolazione, cioè io non credo che un politico si diverta a mettere tasse, ecco questa è la cosa. No. Allora perché le chiedo, cioè perché è possibile, perché non è possibile, cioè capisce, dal punto di vista proprio economico e tecnico. Io non so se abbiamo tempo di fare lunghissimi discorsi. A un 5-6 minuti ce li abbiamo. La situazione del paese è quella che è, cioè questo è un paese nel quale l'anno scorso, non 4 secoli fa, si temeva che le banche non riaprissero e la gente ci domandava, credo si capirà a tutti, ma che facciamo? Ritiriamo i soldi dai conti correnti, non li ritiriamo? Un paese che si è trovato in una situazione drammatica e non poteva far fronte ai suoi impegni, probabilmente agli stipendi e alle tredicesime del Natale, non questo ultimo, quello precedente, per cui il Presidente del Consiglio ha preso la porta e se ne è andato, no? Sì, 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 questo è assolutamente, lo ricordo anche a tutti, per esempio, che se la prende molto con Monti e che comunque Monti è sempre stato più o meno sotto scacco anche dei parlamentari, nel senso che comunque ogni decisione doveva passare da lì. Tra l'altro voglio dire, io ho fatto il parlamentare, io ho votato insieme a tutti gli altri, noi che i provvedimenti che abbiamo preso, due rossissimi, per il polo italiano, le abbiamo votati da soli, eravamo una quindicina al Senato, le hanno votati PD e PDL insieme a noi, oggi sembra che siano tutti orfani, non si può fare perché non si esce da una situazione così delicata senza un ciclo di comportamenti virtuosi, virtuosi non vuol dire che uno deve tagliare le spese in maniera dissennata o aumentare le tasse, si deve essere in maniera virtuosa avendo tutta una serie di comportamenti seri. Berlusconi non è comportamenti seri, prendi i sondaggi, gli dai che cosa vogliono, togli le tasse, dice che tolgo le tasse, poi ci sono in campagna qualche decina di migliaia di abusivi che chiedono il condono, lo fanno continuamente, dice mi promette il condono, mira quello, poi dice che c'è il condono fiscale, il condono fiscale che più o meno lo mette, questo è quello che ha rovinato il paese, che ci ha portato il disastro e che ha portato il Presidente del Consiglio della maggioranza a scappare. Adesso facciamo finta di nulla, si possono abbattere le tasse, intanto si devono tenere sotto controllo i conti, non bisogna far salire lo spread perché lo spread costa, a Berlusconi non gliene frega niente, ma chi paga i mutui probabilmente gli frega, dobbiamo tagliare fortemente la spesa pubblica. Anche Berlusconi dice che lui taglierà la spesa pubblica per diminuire le tasse, e poi si dimentica che nei dieci anni che è governato la spesa pubblica aumenta a 654 miliardi di euro. Una cosa che convince, forse la cosa anzi che convince meno, superata anche il fatto, la critica che per esempio Berlusconi fa a Monti, ovvero la promessa che aveva strappato al Premier di non candidarsi, poi invece Monti probabilmente l'ha fatto anche per la richiesta che c'è stata. Il primo candidato poi è stato lui, infatti questa è superata. Cioè non è che Berlusconi non l'aveva candidato. Le critiche più grandi vengono sull'inserimento all'interno di scelta civica di casini e fini, cioè questa è la critica, Monti veniva riconosciuto comunque anche come l'anti-politico, quindi come una cosa nuova, la scelta più responsabile magari anche da alcuni tra le cose nuove. Però il fatto di mettere gente là dentro che comunque è attaccata a quella poltrona da così tanti anni fa storcere non poco il naso. Casini e fini. Adesso voglio dire, io questa credo sia veramente un'accusa. Casini e fini hanno accompagnato questo processo, credendoci per primi, sostenendolo in Parlamento più di tutti. Poi ad un certo punto per i capricci di Berlusconi, perché li ritiene traditori e ce li andavano eliminati. Traditori di che cosa? Delle follie dell'ex premio. Io penso che sono personalità che hanno dato un contributo, che lo stanno dando e che lo hanno dato nel momento più difficile. Hanno anche rinunciato a stare in maggioranza. Casini è stato ottenuto anche l'opposizione. L'unico in questo paese che può dire questo. ha avuto capacità di vedere prima le cose che succedevano, ma ad un certo punto ce ne adesso eliminiamo. E quindi al fine hanno fatto le loro liste alla Camera e sono al Senato per questa dissennata legge elettorale insieme nella stessa lista. Ma è una tecnicalità, è una scelta politica che io penso si debba sostenere per se sia giusta. Poi questo è qualcosa che è presente in ogni partito. Mi permetto di dire, Casini e Fini, poco fa voi avete sentito il mio amico Cesare Cursi. Perché Cursi sì e Casini e Fini, no, con tutto il rispetto e con tutta l'amicizia e con tutta la stima del Presidente Cursi. Io ero ragazzino e Cesare Cursi era in Parlamento, quindi voglio direva benissimo. Poi abbiamo anche scherzato, nel senso che questa cosa a parte Giannino, Ingroi e Grillo che sono vere novità, comunque questi tre movimenti che nei sondaggi, assieme a Grillo perché anche Grillo è lì, insomma i tre movimenti principali ovvero Monti, ovvero Berlusconi, ovvero Bersani, comunque c'è Bersani anche vent'anni fa era Ministro, insomma ce l'hanno tutti. La Finocchiaro, Rossi Bini, poi insomma voglio dire, non è che gli altri, Giannino faceva il dipendente di Silvio Berlusconi nei giornali, quindi più o meno, c'è come politica. Voglio dire, non è che in televisione lo vediamo da stanotte. No, 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 certo, quello non c'è dove in opera per quanto riguarda cariche politiche. Perfetto, noi ringraziamo il senatore Milano come facciamo con tutti, le facciamole in bocca al lupo e magari saremo a risentirci per analizzare quanto è accaduto, elezioni finite. Grazie, grazie davvero al senatore Riccardo Milana, candidato del Lazio con la lista scelta civica per Monti, Monti per l'Italia.